Scovato, supermarket della droga nell'armadio della camera da leito dell'abitazione di una coppia di coniugi di 30 e 25 anni, finiti in manetti a Berleita. Da tempo l'abitazione era oggetto di mirati servizi di osservazione da parte dei carabinieri della compagnia di Berleita, a causa del continuo andirriviene di persone che frequentavano l'abitazione in tarda serata e di notte. Scattati controlli, i militari hanno deciso di entrare nel condominio di Via Galliano. Sì dalle prime fasi, due soggetti con numerosi precedenti specifici in materia di droga assumevano un atteggiamento sospetto, come se avessero qualcosa da nascondere, eccessivo il nervosismo specialmente del marito che continuamente entrava ed usciva dall'abitazione. Data la situazione, si è proceduto a bloccare lo spacciatore con gli acquirenti e la moglie, quest'ultimo in quel preciso momento, accortosi dell'intervento dei militari, ha cercato di recarsi velocemente in camera da letto per disfarsi della droga, ma è stata prontamente bloccata. Successivamente, durante la perquisizione personale domiciliare, sono stati rinvenuti in un bicchiere di plastica su una mensola dell'armadio 21 grammi di cocaina, suddivise in 72 dosi preconfezionate in bustine di cellofan destinate alla vendita. In più, sempre all'interno dell'armadio, è stata rinvenuta altra cocaina pura, destinata al confezionamento per un peso di 12 grammi. Il controllo è poi stato esteso a tutte le stanze dell'appartamento e, in particolare, all'interno di un giubbotto del marito abilmente celate, sono state rinvenute banconote di vario taglio per un totale di 810 euro, provento dell'attività illecita. I due congi sono stati così arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Il marito è stato associato alla casa circondale di Trani, mentre la moglie ha gli arresti domiciliari.